Chi può sostenere il TOLC? Il TOLC lo possono sostenere tutti gli studenti dal penultimo anno delle scuole secondarie e superiori italiane o estere. Questo vi fa capire perché si dice dal penultimo anno, perché se stai facendo una scuola americana ed è 4 anni, a quel punto la puoi fare dal terzo. Altun secondo, ti è utile questo contenuto? Te ne vorrei portare tanti altri, ma per farlo occorrono molte risorse, strumentazione, tempo, videomaker, grafici, programmi, eccetera. Quello che puoi fare proprio ora è sostenere questo progetto offrendomi l'equivalente di un caffè al link che trovi qui sotto, oppure entrando nella community. Tutto verrà usato per portarti sempre più contenuti. Inoltre puoi iscriverti al canale, mettere mi piace e condividere questo video. In questo modo ci farai crescere e ci permetterai di collaborare con realtà sempre più importanti e dunque portarti nuovi contenuti. Perciò proprio tu puoi fare tanto per questo progetto. Quindi la parola chiave è penultimo, ma quindi se non sei studente del quarto o quinto anno non puoi più fare il TOLC? Tranquillo o tranquilla, possono sostenere il TOLC anche tutte le persone che hanno già conseguito un diploma di scuola media superiore. E anche loro, quindi tutti coloro che sono già diplomati, possono sostenere il TOLC due volte l'anno. Nel prossimo video vedremo come ci si iscrive.